ciao ragazzi ciao ben trovati eccoci qua un'altra bella diretta oggi è sabato ne approfitto per passare un'oretta in insieme a voi in modo tale che ci facciamo quattro chiacchiere ho la possibilità di rispondere a tutte le vostre domande quindi dubbi curiosità gestione dei soldi investimenti e anche business quindi rispondo tutte le vostre domande e ci togliamo anche qualche curiosità se ce l'avete per quanto riguarda magari i vari progetti che stiamo che stiamo portando avanti di progetti ce ne sono veramente veramente tanti ho fatto in realtà un video di resoconto dei miei investimenti per quanto riguarda il mese di gennaio e appunto lì vi ho fatto appunto un piccolo recap di tutti quelli che sono gli investimenti adesso in essere quindi che vanno dall'immobiliare con dovrebbe essere tra l'altro l'undici quindi tra tre giorni con l'acquisto del nuovo immobile che dovremmo ristrutturare per ampliare quello che l'attività di bed and breakfast ciao ciao un attimo e comincio a rispondere a tutte le vostre domande e quindi l'attività immobiliare poi abbiamo anche il nuovo progetto sulle criptovalute che è partito il mese scorso dicembre sempre il portafoglio di investimento e le investimenti sul crowdfunding quindi c'è veramente tanta tanta carne al fuoco e vi anticipo già che ci saranno anche delle novità sto lavorando per delle novità il 2022 sarà un bellissimo anno molto molto intenso ciao a tutti voi che vi state collegando ovviamente lasciate le domande nei commenti perché appunto ci prendiamo questo retta insieme per rispondere a tutte le vostre domande ciao vorrei cominciare ad investire una piccola cifra mi sai dire come posso fare magari su azioni sicure che diano un rendimento allora per cominciare ad investire la cosa migliore da fare soprattutto se hai una piccola cifra per assurdo se stiamo parlando di 100 200 ma anche fino a 1000 euro io la cosa che farei più che cominciare a investire andrei a definire quella che è la mia formazione quindi userei quei soldi per acquistare dei libri in modo tale da capire meglio come funziona il mondo degli investimenti che cosa vuol dire investire e quindi avere essere un pochettino più orientato perché come dico sempre è inutile che noi partiamo dall'investimento dallo strumento in cui andiamo ad investire tipo tu mi chiedi le azioni sicure così via quello è l'ultimo step di quello che ci serve realmente perché perché la definizione dello strumento tu la fai veramente come ultimo passaggio prima ci sono gli obiettivi di investimento prima c'è la gestione del tuo budget familiare di quanti soldi riesci a guadagnare di quanti soldi riesci a risparmiare quindi crearsi il progetto crearsi la strategia che ti deve portare a raggiungere i tuoi obiettivi di vita e una volta che tu ce l'hai questa strategia allora puoi cominciare ad investire perché il lo strumento le azioni come le obbligazioni come la creazione poi di un portafoglio diversificato si fa in questi casi tu la fai banalmente viene tra virgolette banalmente dalla definizione di tutte queste cose prima e non è sembra una cosa scontata sembra una cosa banale però in realtà è veramente l'unica cosa essenziale che conta io faccio sempre mi viene da fare l'esempio ogni volta che mi contattano per una consulenza cosa succede vogliono partire sempre dalla fine sempre dallo strumento dove andiamo a investire cosa andiamo a investire quanto rende ed è la cosa più sbagliata in assoluto infatti poi ragionando parlandoci insieme ci si rende quando si arriva insieme a definire qual è il portafoglio migliore perché appunto le domande che si fanno comunque servono proprio a dire ok ma per quanto tempo devi investire perché devi investire quali obiettivi dobbiamo raggiungere facendo tutte queste domande passo passo si arriva alla definizione di un portafoglio quindi il percorso è esattamente il contrario ti so dare un testo sì sì guarda sotto tutti i libri sotto i libri sotto tutti i video youtube ah sì poi diciamo se non vuoi spendere neanche i soldi dei libri c'è il canale youtube quello nostro vivere di dividendi trovi tantissimi video c'è il 90 per cento della formazione di cui tu hai bisogno completamente gratuita sotto tutti i video c'è un link con i libri consigliati e quindi la diciamo tra il canale youtube e i libri consigliati trovi veramente tutto quello che che ti serve conviene investire negli immobili se riesco ad avere una renta al 10 per cento assolutamente sì una renta al 10 per cento è assolutamente ottima l'investimento che io sto facendo adesso quello che dobbiamo concludere incrociando le dita l'undici di gennaio è un investimento al 10 per cento quello che farei io se fosse possibile se coerente con quello che è la tua situazione io l'investimento immobiliare cercherei di farlo sempre comunque con il mutuo quindi avere fare il mutuo per me è un must tra virgolette dell'investimento immobiliare poi se non vuoi fare il mutuo lo vuoi fare con i tuoi soldi va bene uguale però il 10 per cento già un ottimo rendimento ma l'idea è mettere in pratica all'inizio per capire come funziona allora sì se voi volete cominciare a smanettare e a fare degli investimenti e quant'altro ci sono anche tutti i conti d'imo quindi voi vi aprite un conto su una qualsiasi piattaforma adesso mi viene da dire ituro perché c'è io lì se tu vai apriti danno il conto d'imo cioè molto facile molto banale per cominciare è molto molto semplice tu ti apri il tuo conto d'imo e con il conto d'imo ti danno 500.000 euro e ti metti lì e fai tutti i tuoi esperimenti tutti i tuoi investimenti quello quello che vuoi ma tutte le piattaforme fanno il conto d'imo quindi tranquillamente allora ciao segui ancora celsius no celsius non la seguivo neanche prima non lo so celsius non la seguivo perché evenfai ha i pochi progetti attivi non è meglio diversificare ma su evenfai ho 8 progetti in realtà in questo momento c'ho 8 progetti e sono diversificati perché il budget che io ho investito solitamente lì su capitale io ho investito o 500 o 1000 euro ogni progetto quindi ogni progetto irano diciamo come capitale irano 500 euro più o meno qualcosa del genere ora non ricordo saranno 8 o 9 progetti attivi qualcosa del genere però sì su quella tipologia di progetti stiamo parlando di una piattaforma evenfai per chi non la conosce che da rendimento finanzia il debito quindi da rendimento fisso all'8 o 9% assolutamente anche io farei questa questa strategia a mettere piccole somme su più progetti ciao anna ben trovata ciao luigi dovrei acquistare un immobile a milano stavo valutando zuna universitaria non si sa mai poi per affittarlo ci devi abitare inizialmente cosa consigli come costo rendimento altri consigli allora per quanto riguarda gli immobili tenete presente che io non comprerei nulla sotto il 5% perché 5% calcolato come tu devi calcolare la tua rata quanto ti dà annualmente di affitto diviso quanto paghi l'immobile quello è la tua percentuale di rendimento di quell'investimento meno ovviamente devi toglierci le spese spese di manutenzione contale più o meno come se fosse un punto percentuale sul valore di acquisto cioè giusto per darti degli ordini di grandezza però se rende meno del 5% vale la pena solo se lo fai con il mutuo se con i soldi tuoi no ci sono tante alternative meno impegnative che è molto meglio perché è meglio comprare o investire in immobili con il mutuo e assicurazione delle banche perché comunque ci sono i tassi di interesse e assicurazione che le banche allora perché dico che è meglio investire nell'immobile con il mutuo e mai con i soldi nostri perché la cosa più bella, più importante dell'investimento immobiliare più che rendimenti che solitamente è difficile trovare i rendimenti al 10% è comune negli investimenti immobiliari trovare investimenti al 4-5% quindi perché dico che è meglio farli con il mutuo? perché l'investimento immobiliare è l'unica alternativa l'unica possibilità che noi abbiamo per prendere i soldi in prestito dalla banca se tu vai in banca e gli chiedi i soldi mi dai 50.000 euro per investire in borsa non te li danno mi dai 50.000 euro per investirli nel crowdfunding non te li danno mi dai 50.000 euro per investirli in start-up non te li danno l'unica maniera per prendere i soldi in prestito dalla banca è l'investimento immobiliare ed è l'unica maniera che abbiamo non ne abbiamo altre quindi è vero che noi andiamo a pagare il mutuo all'1% al 2% quello che è non importa però andiamo a sfruttare l'effetto l'iva ok? perché tu al posto di avere solo i tuoi soldi che magari tu hai 100.000 euro ne puoi prendere un'altra 100.000 dalla banca e tu guadagni su 200.000 euro non più sui tuoi 100.000 quindi è molto importante sfruttare sfruttare l'effetto l'iva esempio pratico io ho comprato ho due mutui su due immobili su due immobili e praticamente ovvero che ho preso il mutuo quindi è vero che pago il mutuo e quant'altro però il mutuo la rata del mutuo mi costa 350 euro o qualcosa del genere un mutuo 350 euro ma io di rendita da quell'immobile e ne prendo almeno 900 ok? la stessa cosa il secondo mutuo rata 350 qualcosa non lo ricordo nemmeno ne prendo almeno 900 pure di là e quindi capisci bene che se io avessi messo tutti i miei soldi lì non ce l'avrei fatta materialmente a comprare più cose mentre con il mutuo tu riesci a comprare più cose l'importante è che appunto ci stai dentro ci stai dentro con il rapporto tra la rata che paghi e quello che prendi quindi diciamo quello che tu paghi di mutuo come rata deve essere ovviamente minore del netto che guadagni dal tuo immobile altrimenti non ci stai dentro quindi tu devi sempre essere positivo tu prendi 500 di affitto devi avere 400 di rata 300 di rata ok? perché ti devi lasciare un margine di sicurezza almeno poi se riesci a trovare delle occasioni che come a me come nel mio caso paghi 300 di rata e prendi 900 di affitto allora è tanto meglio però sono quei casi che dicevamo degli investimenti immobiliari che non sempre li trovi al 10% molto spesso li trovi al 5% Aspè mi sono dilungato un po' ci sono un po' di domande però spero di aver chiarito questa cosa perché è molto importante ciao Domenico qualche parola su qualche bel ETC settoriale per il futuro cosa vedi meglio ETC o ETF? ah ETF a me piacciono come settori sicuramente la Cyber Security è un settore che che comprerei poi dei settori un po' più difensivi che vanno sempre bene sono sicuramente il farmaceutico poi se vuoi le rendite sicuramente i rate e settori a grande sviluppo cioè a me piace più che la Cyber Security è l'unico che mi piace veramente perché tutti quelli tipo il green la green economy la robotica se poi vai a vedere le aziende sono belli come numi ma se poi vai a vedere le aziende dentro non lo so quindi per il momento ti direi quello però teniamoci aggiornati perché ne escono sempre di nuovi quindi vediamo un po' se è qualcosa di Yield 1050 no non la sto seguendo più perché non mi piaceva tanto come business ho visto che era troppo dipendente dal dai dai contratti che generava l'immobile su cui stai investendo che potrebbe rendere il 10% è un negozio no 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 è un io c'ho gli altri immobili che ho preso ce li ho con attività di bed and breakfast quindi adesso sto comprando un altro immobile che è assolutamente analogo ai precedenti e praticamente nel centro storico a Barletta le case sono a forma di torre c'è una stanza sull'altra perché prima tutte le famiglie vivono solo in una stanza e quindi praticamente sto comprando perché sono tre tre stanze lasciami dire da 25 30 metri l'una e ristrutturandole escono tre monolocali praticamente e quindi faccio il bed and breakfast cioè amplio il bed and breakfast che c'ho allora vediamo un po' di domande qua che ragazzi vi stavo trascurando ah spiega perché il mutuo è meglio l'abbiamo appena fatto hai già acquistato appartamenti nel metaverso allora ragazzi no nel metaverso io non mi sono ancora avvicinato anzi è una cosa che bisogna assolutamente cominciare a interessarsi interessarsi non ora come ora direi che io non non vi dotto questo grandissimo cioè non capisco come ci si possa fare i soldi però è solo per ignoranza perché non mi ci sono ancora avvicinato quindi assolutamente no questa storia del metaverso è assolutamente da approfondire cercare di capire meglio come poterla utilizzare al meglio cosa ti aspetti sui mercati nel 2022 consigli qualche etf per il lungo periodo allora li abbiamo parlato un minuto fa degli etf in generale sui mercati nel 2022 io cosa mi aspetto ci sono delle cose che già sappiamo e sono certe già sappiamo che ci sarà il rialzo dei tassi la banca centrale americana l'ha detto ce ne saranno o due o tre non ricordo esattamente quindi è certo che l'obbligazionario scenderà questo già lo sappiamo non ci non ce lo dobbiamo inventare è già è già così già si sa che succederà questo nel 2022 saliranno i tassi quindi continueranno a performare bene i settori finanziari non non mi aspetto in questo momento storico con le informazioni che abbiamo adesso a meno di cambiamenti di scenari non mi aspetto un crollo o qualcosa del genere perché sì è vero che i mercati sono alti possono scendere un po' i mercati possono ritracciare possono ritornare a delle condizioni un po' più allineate assolutamente sì non mi aspetto cose devastanti però quindi comunque mi aspetto dei mercati che continuino per ora il trend continua a essere positivo quindi a meno che non arriva qualche notizia che ci cambia le cose o cambiano le condizioni macroeconomiche non mi aspetto cambiamenti devastanti i bed and breakfast li gestisci tu assolutamente no non perché sia una cosa cattiva ma se io vivo a Torino i bed and breakfast sono a barletta in questo caso praticamente vabbè nello specifico c'è c'è mia sorella prima c'era un'altra persona ma c'è ancora questa persona tra l'altro ma il punto non è quello il punto è per come sono fatto io per quello che sto facendo io per quello che è il mio progetto di crescita io faccio tutte attività dove non devo essere coinvolto io in prima persona nel lavorare cioè perché io dico sempre che ho smesso di lavorare perché praticamente a novembre sono stato via un mese in camper tutte le mie attività sono andate avanti tranquillamente senza che io non ho dovuto fare niente se io non ho voglia cioè su youtube sono sei mesi che non faccio un video ho ricominciato la settimana scorsa il canale è andato avanti tranquillamente diciamo ogni volta che mi impegno in qualche business in qualcosa in qualche progetto questi progetti devono lavorare senza di me Newit l'ho creata l'ho fondata l'ho lanciata però Newit se io non faccio nulla lavoro uguale perché io non sono indispensabile dentro Newit io ritengo che le persone non devono mai essere indispensabili nelle aziende se un'azienda non va avanti perché manca una persona quell'azienda non è organizzata bene cioè le aziende non possono ruotare attorno alle persone le aziende devono andare avanti da sole con le proprie gambe con la collaborazione di tutte le persone ma se manca una persona non può fermarsi il mondo e questa è un po' la mia filosofia e quindi anche questa attività immobiliare lo diciamo c'è una persona che amministra e quindi può essere uno mia sorella può essere un esterno può essere quello che vuoi io la sto scalando quindi sto continuando a crescere a comprare immobile a continuare a scalarla proprio perché più la scali più lo stipendio della persona che amministra ti impatta meno sul tuo i costi totali se adesso impatta su c'ho sette monolocali e quindi da quei sette monolocali devo tirare fuori lo stipendio delle persone che gestiscono dopo che ne avrò dieci ovviamente questo impatta di meno e quindi io potrò sempre avere una persona che mi amministra queste cose qua e non devo farlo io in prima persona però se tu ne hai uno solo è ovvio che non puoi fare questo ragionamento quindi bisogna trovare un po' il compromesso tra quello che vuoi fare tu quelli che vogliono essere i tuoi impegni e come vuoi gestire le cose io ripeto mi impegno solo in progetti o creo solo progetti business che poi non devono dipendere da me cioè io posso star là supervisiono gestisco do il mio contributo faccio il mio lavoro di networking e così via faccio questa comunicazione però se io domani sto via per un mese due mesi tre mesi me ne vado in vacanza deve continuare a lavorare tutto come se niente fosse non devono dipendere da me le cose cosa ne pensi di un portafoglio sui mega trend oltre alla cyber security auto elettrica tech e altro allora assolutamente sì se tu fai ti prendi un etf non puoi fare tutto il portafoglio solo legato diciamo o meglio all'interno del tuo portafoglio dei tuoi investimenti tu ci puoi mettere un etf o delle aziende o quant'altro sui trend che ti interessano di più quindi l'auto elettrica va bene diciamo prima la robotica il tecnologico il gaming tanno tanti trend tu ti puoi inserire all'interno del tuo portafoglio gli etf settoriali che ti interessano sui trend che ti interessano assolutamente sì eh mi dici non è troppo impegnativo eh no proprio per questo non è troppo impegnativo perché in realtà per come sono strutturato adesso ripeto io a novembre sono stato via un mese non ho fatto nulla non è successo niente è andato avanti tutto lo stesso youtube va avanti senza di me il bread and breakfast va avanti senza di me new it può andare avanti senza di me eh che altro boh non so non mi viene in mente più niente tiktok è l'unica cosa che non va avanti senza di me però tiktok sono i video da un minuto trenta secondi cioè mi diverto pure a farli eh il metaverse è come un videogioco ma con i soldi però se tu investi in qualche modo non ti conviene investire nel mercato del lusso o del high end alla fine per sette monocali 55k li hai spesi di sicuro 550k no no assolutamente no 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 guarda allora tutti e tre gli immobili tutti e tre costo 50 mila euro ciascuno no rido perché diciamo costano tutti uguali sono costati tutti uguali no tutti uguali esattamente no il primo 55 il secondo 52 e questo 50 tutti e tre sesta tipologia tutti e tre da ristrutturare 50 di acquisto e vabbè la ristrutturazione dipende la ristrutturazione dai 30 ai 50 mila euro metti 100 mila euro per stare per stare tranquilli totali quindi 100 mila euro a testa praticamente però i primi due li ho fatti con il mutuo questo terzo lo sto comprando con i miei soldi perché solo perché purtroppo non riesco a prendere il mutuo in questo momento però stiamo l'obiettivo 2022 è quello di creare l'SRL immobiliare dove mettere dentro l'attività di bed and breakfast e quindi puoi farsi finanziare tramite l'SRL immobiliare poi ti devi affidare un property manager senza accolarti lo stipendio di un dipendente sì 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 assolutamente puoi fare un property manager puoi fare quello che vuoi assolutamente sì allora vediamo qui ci sono un po' di domande anche da quest'altra parte sarà stato un anno sfigato ma quest'anno nella mia casa data in affitto ci ho rimesso per tutte le magagne che sono saltate fuori spero che nel lungo periodo qualcosa rimanga in tasca sì i progetti immobiliari sembrano un gioco soprattutto sembra che sulla casa si guadagni sempre invece non è ovviamente così sia sul sul valore della casa perché non è vero che i valori delle case salgono sempre e sia sul fatto che l'affitto è una brutta bestia e va gestito in maniera in maniera opportuna non è un gioco è un'attività imprenditoriale a tutti gli effetti se non era passato questo messaggio prima chiedo scusa ma è così cioè comprare affittare non è assolutamente un gioco non è facile e è fattibile si può fare è alla portata di tutti sì ma non è un gioco cioè bisogna mettersi là ci sono i soldi in gioco ci sono eventualmente dei mutui in gioco bisogna gestire gli affettuari non è non è una banalità se volete fare è un'attività imprenditoriale a tutti gli effetti è fattibile bisogna fare un'attività imprenditoriale in qualche maniera per cercare di guadagnare di più però è un'attività non è un gioco avevo iniziato a seguirti dall'inizio poi essendomi concentrato molto più sulle cripto non ho più ascoltato i tuoi video complimenti davvero Domenico per la tua concretezza e serietà grazie Andrea fantastica domanda sui metaversi esempio reale una terra su sandbox è passata a valire da 200 dollari oltre i 10.000 dollari altri mondi comportano comunque allo stato iniziale in termini di conoscenza e sicurezza il problema nel metaverso non il problema scusate quello che io non ho ancora capito nel metaverso e voglio cercare di approfondire per capirlo è va bene che io compro questa terra o questa cosa e questa poi magari per una qualche ragione aumenta di valore però in realtà è lo stesso discorso che c'è tra le cripto se domani nessuno le vuole più boh finito il gioco e c'è capito e non poi i metaversi tu ne puoi creare quanti ne vuoi quindi perché proprio quella terra deve valere di più cioè mi sembra un gioco tipo cripto e di cripto ce ne sono non so 100.000 in giro là fuori sono una specie di gioco quindi è un gioco pericoloso io questa parte non l'ho capita ancora quindi vorrei cercare di capire perché proprio quella qual è il valore aggiunto di quella e perché domani un altro non crea un altro metaverso che è più più di muda rispetto a quello dove ho investito io che ne so conviene investire in etc in euro nel 2022 cosa ne pensi delle altre materie preziose come platino e palladio allora conviene di per sé puntualmente solo per quello no anche perché non lo puoi sapere come come si muoverà può convenire nel senso che tu vuoi metterlo in portafoglio per un criterio di bilanciamento del tuo portafoglio allora sì potrebbe avere assolutamente potrebbe avere assolutamente senso però loro in questo momento tendenzialmente se aumentano i tassi è molto probabile che loro vada giù in realtà avrebbe dovuto anche salire forse anche di più perché c'è per allinearsi a quella che è la massa monetaria in circolazione in questo momento però ci sono diciamo che ci sono queste due forze sul loro contrapposto è uno della massa monetaria che è aumentata all'altro l'aumento di tassi che manda giù loro quindi non ti saprei dire nel 2022 se loro salirà o scenderà e quindi io lo metterei in portafoglio solo se è allineato a una logica di diciamo di struttura del portafoglio non perché vado a puntare sul fatto che loro devono aumentare per forza allora ma nel bmb chi ci viene d'inverno è gli amanti no dai c'è c'è ovviamente guarda il bmb parlo per me io per esempio se vai sul lago di Garda o su posti che magari lavorano tutto l'anno è sicuramente diverso nel mio caso il 50% del fatturato lo fa in tre mesi l'estate ma la rendita del secondo in poi non diminuisce di parecchio aumentando il costo delle tasse la rendita dici del secondo immobile perché aumentano le tasse sì c'è un po' più di tasse da pagare ma non ti cambia il mondo per chi vuole investire con orizzonte tempo cioè scusami per finire la domanda di prima tipo è ovvio che io adesso devo il terzo il quarto immobile che compro e pago le tasse al 10% non lo pago più come prima casa e pagherò 5.000 euro di tasse però ragazzi non è non è le tasse che ti fanno capire se un investimento è buono oppure no tutti quelli che dicono eh le tasse troppe di qua di là tutti quelli che si lamentano delle tasse il problema non sono mai le tasse il problema è che quell'investimento è sbagliato e sono due cose diverse sono due cose assolutamente diverse le tasse non ti spostano l'equilibrio di un investimento mai non è l'Imu non è l'Atari non è le tasse d'acquisto e neanche se aumentano non mettono una patrimoniale le tasse non ti spostano l'equilibrio di un investimento l'investimento o è buono o non è buono boh le tasse non te lo fanno cambiare da buono o non buono per chi vuole investire con un orizzonte temporale 2-3 anni oltre al lending che non fanno che conti deposito cosa suggerisci l'azionario è meglio evitarlo se l'azionario due anni soli può se a te quei soldi ti servono veramente tra due anni devi essere sicuro di avere quei soldi lo devi evitare puoi orientarti anche sull'obbligazionario tu ti pidi delle obbligazioni anche a zero coupon che ti con scadenza quando vuoi tu e quindi sai che a quella scadenza tu avrai quei soldi quindi puoi prendere anche delle obbligazioni eventualmente come valuti la posta tipo united link ramo 3 ultima proposta del consulente di banca per entrare chiedono subito il 3% mi zica mi sembra un po' costoso mi sembra un po' costoso bisogna un attimino vederla vedere vedere la polizza le facciamo pure noi ma il 3% di ingresso ragazzi è tanta roba è tanta roba quindi cioè potrebbero essere utili ripeto ce le abbiamo pure noi però se nel tuo caso serve quella polizza ok va bene falla cercati dei costi fatti un giro per cercare dei costi diciamo i migliori costi possibili perché alla fine su quelle cose il costo ti fa molto la differenza allora vediamo qua poi li potevi affittare un ciao qualche tf l'abbiamo detto ah no qualche tf come piano di accumulo ma tu puoi usare come piani di accumulo qualunque tf cioè nel senso tu non è cioè tu ti scegli prima la strategia e il settore dove vuoi andare ad investire e poi puoi fare l'accumulo su qualsiasi cosa quindi dipende da te da come vuoi creare il portafoglio puoi farlo sull'S&P 500 sul Nasdaq sulla cyber security sulla robotica sulla energia green dipenderà come vuoi strutturare tu il portafoglio però non so se forse forse non mi va questa la domanda hai visto il video in cui hai detto del ritorno del 3-5% su un immobile a parer mio è pochissimo forse è per l'Italia in che senso è pochissimo allora lo stavamo facendo prima questo discorso tu le trovi anche gli investimenti al 10% non sono così così frequenti ripeto quello che sto facendo io è al 10% in effetti non sono così frequenti io ho dato quelle cifre perché mediamente è quello che trovi in giro l'80% di quello che trovi in giro è quello da un certo punto di vista è anche normale che sia così poi ovviamente ci sono le occasioni che ti fanno schizzare il rendimento quello sì assolutamente hai intenzione di costruire prima o poi io vorrei provarci fra qualche anno magari costruire intendi proprio edilizia io no in prima persona finanziare persone che fanno quei progetti sì però io fare mandare avanti un progetto del genere no proprio per il discorso che facevamo prima diciamo tutte le attività non mi piace fare quelle attività dove poi devo essere io per forza impegnato a fare qualcosa una curiosità con le ristrutturazioni come hai fatto sei rimasto sul posto sì la prima ero sul posto vivivo proprio a Barletta la seconda no vivivo a Cassino e scendevo ogni fine settimana per un periodo è rimasta anche mia moglie giù è rimasta mia moglie giù per un periodo un mesetto poi in realtà la ristrutturazione aveva avuto problemi con l'impresa che stava facendo i lavori si sono interrotti i rapporti e l'ha finita il mio cugino quindi mi sono fidato di lui e me l'ha mandata avanti lui e infatti la terza poi che era la ristrutturazione la ristrutturazione solo di un monolocale se l'è fatta completamente il mio cugino l'ha vista direttamente lui questa ristrutturazione che farò adesso siccome è grande andrò io giù e mi trasferirò giù e seguirò seguirò la ristrutturazione eh sì le imprese erano di fiducia talmente di fiducia che poi abbiamo litigato e ci siamo mandati a cagare e quindi poi ho dovuto cambiare quindi non so mai come vanno a finire queste cose quegli immobili che hai comprato e ristrutturato oggi li potresti rivendere con una plusvalenza probabilmente no probabilmente no se li andrei a rivendere oggi probabilmente li rivenderei a 100.000 uguale o qualcosa di più o meno simile apri un'azienda di costruzioni e poi va avanti da sola se ci vuole uno che la gestisce perché in Italia avete tutti i cugini che lavorano nel vabbè ma tu prima di comprare un immobile hai già qualcuno che te lo affitta sicuro oppure lo compri e poi trovi qualcuno affittato no prima lo compri prima fa l'investimento e poi lo cerchi di affittarlo e così via anche perché tipo io ho cominciato prima li affittavo normalmente quindi persone che magari hanno lavorato di fuori sede e così via questo è stato l'inizio adesso facciamo ancora così però abbiamo avviato anche la parte di bed and breakfast quindi adesso posso fare tutte e due le cose una mia amica ha fatto veramente la part love per coppie non so come l'abbia fatto ma tant'è che nei momenti morti Airbnb non andava da dio assolutamente sì ragazzi buttatevi nel mondo del degli amanti il mondo degli amanti rende tantissimo perché poi sono clienti abituali no perché poi una volta che vengono la prima volta poi vengono sempre una volta a settimana tu ce li hai sempre quindi li puoi fare anche un prezzo di favore e boh ce li hai e ce ne sono tanti è un mercato molto molto grande che ne pensi di amc non la sto seguendo come vi dire la situazione etf high tech cina benissimo cioè nel senso io ragazzi io sto comprando sulla cina ditemi quello che volete nel 2021 il portafoglio abbiamo fatto un risultato negativo del meno 2% quello che vuoi però non ci sono paragoni nei confronto a quanto sono le quotazioni adesso in cina rispetto a quanto sono le quotazioni in america e così via io continuo a comprare continuo a comprare cina e poi il tempo ci dirà se avremmo avuto ragione oppure no investi ancora con i turo cosa ne pensi dei portafogli settoriali di turo da copiare ah i portafogli settoriali si investo ancora con i turo c'ho ancora il portafoglio lì quello pubblico i portafogli che fai turo da copiare sono sostanzialmente degli etf a tutti gli effetti creano degli etf e sono degli etf a tutti gli effetti quindi si e tu ti scegli il tuo portafoglio è come se fosse un etf boh né più né meno praticamente apriamo una casa chiusa no perché tu affitti solo la casa il materiale umano viene da fuori non lo metti tu etf su cina diretto o meglio mercati emergenti no io cioè no io sono concentrato sulla cina a me mercati emergenti in generale non tanto piacciono tipo non investirei mai nel brasilia nel sud africa gli unici paesi che mi piacciono oltre la cina sono la russia e l'india boh tutti gli altri paesi no aspetta gli altri paesi no poi ci sono paesi tipo come coria però coria c'è un mega aziende o taiwan cioè sono mega aziendone mondiali però diciamo stiamo parlando di singole aziende allora quello si comunque da immobiliarista ti consiglio di prenderti un tecnico di fiducia e non un'azienda di fiducia allora ti dirò lì da quel lato sono abbastanza fortunato il tecnico in realtà non mi è mai servito veramente nel senso il geometra per fare le pratiche comunali queste cose qua sì però oltre quello il tecnico non mi ha fatto cioè io non ho usato un tecnico per le ristrutturazioni me le sono fatte da me sia perché ci ho fatto venivo da un minimo di esperienza nel senso soprattutto mio papà non fa questo di mestiere però diciamo ha seguito diversi diversi lavori e quant'altro io poi mi ci sono buttato io proprio in prima persona anche a fare i lavori soprattutto la prima casa quando stavo a Barletta me li sono molti me li sono fatti proprio io in prima persona e quindi le divisioni poi io ho fatto il geometra e quindi comunque una piantina una suddivisione degli ambienti queste cose così diciamo per me non sono cose fantascientifiche quindi non l'ho mai usato in realtà un architetto qualcosa del genere che mi seguisse i lavori proprio da capo direttore tecnico dei lavori non l'ho mai usato lo faccio quello tra virgolette lo faccio un po' io serve invece a me serve invece l'azienda che mi faccio che mi faccio i lavori quello sì però sì ho capito dal tuo punto di vista capisco assolutamente il fatto se tu hai una figura tecnica che ti faccia quello e ti controlla anche i lavori e tutto quanto assolutamente sì ora nel mio caso io avevo un minimo di competenze quindi me lo sono fatto io non avessi avuto queste competenze assolutamente avrei fatto come suggerisci tu diciamo come una persona che seguisse le cose come lo vedi il futuro dell'azionario ne parlevamo prima noi in questo momento i mercati sono ancora in trend rialzista quindi a meno che non cambiano la situazione economica o non succede qualcosa di particolare che vada a far ruotare i mercati in questo momento la situazione è ancora di rialzo contratti semestrali per l'affitto degli immobili cosa ne pensi se vivi in una città diversa da quella dell'immobile allora sì assolutamente nel senso che le persone migliori a cui affittare gli immobili sono sicuramente tipo lavoratori fuoricide studenti e così via quindi assolutamente sì contratti brivi assolutamente sì e se vivi se non vivi se vivi in una città diversa è un po' un problema perché ogni volta devi andare anche se ci sono delle manutenzioni delle cose è un po' uno scazzo però diciamo dipende un po' dalla distanza può essere può essere gestibile con l'inflazione che sta arrivando come si comporta il mondo azionario non è l'inflazione di per sé che fa muovere il mondo azionario quanto i tassi quanto i tassi di interesse tendenzialmente all'aumentare dei tassi come aumenteranno i tassi l'azionario tende a diminuire perché ovviamente vai a scontare maggiormente quelli che sono i profitti futuri delle aziende questo come macro situazione è vero anche che ci sono degli altri aspetti da valutare ovvero cioè nel senso anche quando sono aumentati i tassi nell'ultimo periodo poi il mercato è continuato a salire in realtà quella che è la problematica principale adesso è che non c'è nessuna alternativa non c'è un'alternativa al mercato azionario quindi cioè se io ti dovessi dire ok non investiamo nel mercato azionario perché i tassi salgono le azioni dovrebbero scendere dove investiamo non c'è un'alternativa questo è il problema serio solitamente un tecnico che lo fa di mestiere conosce anche le aziende più serie è vero poi ci sono altri vantaggi in realtà non è più vantaggiosa un'attività di affittacamere piuttosto che un bed and breakfast non lo so cioè bisogna dire non lo so veramente non ho fatto un business plan sulla affittacamere o in confronto ad un bed and breakfast e le cripto ah sulle cripto abbiamo cominciato non so se l'avete visto abbiamo fatto un paio di video su youtube c'è anche un video su tiktok ho cominciato un progetto test sulle cripto dato che io non sono un trader di cripto ho trovato la piattaforma PrimeXBT che ti fa copiare i portafogli di trader e quindi sono io che copio i portafogli di trader in cripto e quindi ho cominciato da dicembre questo test che lo sto condividendo con tutti voi nei vari video e il progetto diciamo questo test vado ad investire mille dollari al mese lo facciamo per sei mesi abbiamo cominciato a dicembre quindi ho già versato 6.000 dollari sulla piattaforma ogni sei mesi ne carico mille in copia e voglio vedere come va se mi fanno veramente fare i soldi allora dove ti informi per investire in borsa su aziende straniere ma di siti ce ne sono tanti c'è Finbit c'è Morningstar Seeking Alpha Guru Focus che altro investing.com ma ce ne sono tantissimi di siti ho visto che su Ituro c'è un portafoglio dividend growth è favorevole avere un portafoglio solo con aziende che pagano dividendi per il problema della doppia tassazione su Ituro la tassazione è sfavorevole perché Ituro non applica la convenzione con gli Stati Uniti sulla tassazione al 15% ma te la fanno al 30% quindi attenzione su Ituro nel senso se voi lo fate solo per i dividendi no non conviene se invece tu prendi quel dividend growth perché comunque pensi che le aziende si vadano ad apprezzare allora si puoi farlo etfcina legato a quale indice suggerisci vai a guardare le aziende apriti i 2-3 etf principali a maggiore capitalizzazione guardati le aziende che ci sono dentro e scegli le etf con le aziende che ti piacciono di più sono un po' sfiduciato sull'immobiliare due inquilini ho avuto tutti e due cattivi pagatori hai ragione non è facile anche io ho avuto esperienze di persone che non mi hanno pagato all'inizio proprio per questo poi abbiamo siamo passati al bed and breakfast dove diciamo c'hai molto meno di questi problemi c'hai più lavoro da fare ma c'hai meno di questi problemi quindi assolutamente sì diciamo non è non è una banalità gestire degli affitti non è assolutamente una banalità hai la mia piena solidarietà legando cripto e immobiliare land share e un nuovo token semplificando puoi acquistare i diritti su case vire pagando un po' in dollari un po' in token potrebbe essere interessante non conosco questo progetto quindi non mi posso esprimere su quel progetto in generale però questa come concetto di usare i token per fare degli investimenti reali è una cosa che va assolutamente bene e anzi vi dirò uno dei progetti che sto cercando di fare nel 2022 è proprio questo utilizzare i token per fare gli investimenti reali quindi il token diventa solo uno strumento un mezzo tu ti puoi creare un srl ti puoi fare la piattaforma di crowdfunding puoi usare il token sono degli strumenti quello che importa è il sottostante quindi dove vai realmente ad investire un etf s&p xfang non lo so non lo so mi cogli impreparato non lo so se esiste allora secondo te ha senso impostare gli stop loss per difendersi dai crolli in un portafoglio di etf no non c'ha senso lo stop loss non viene non vieto ovviamente di investire ai ribassi no io sull'etf non lo userei adesso probabilmente con crypto sei in perdita oppure no lo andiamo a vedere non lo so adesso con le crypto vediamo cosa mi stanno combinando questi ragazzacci tutto no sono in guadagno 0,29% mistica c'è uno che mi ha fatto il più 40 grandioso allora aspetta che c'è su youtube ve lo condivido allora in questo momento sono in guadagno dello 0,29% in realtà c'è una persona che mi ha fatto il più 40% una persona che mi ha fatto il più 4% e ci sono due persone che mi hanno fatto uno meno 18 l'altro meno 14 gli altri stanno meno 5 meno 10 e quant'altro comunque il totale 1 fa più 0,29% oggi non so questo cosa si è inventato per fare il più 40% che poi ha fatto il più 40% in 3 giorni 4 giorni perché questo l'ho cominciato a copiare da pochissimo grande va bene più 0,29 ok aspetta 0,29 è la parte attenzione 0,29 è la parte di trading poi c'è il cambio euro-dollaro quella è un'altra cosa euro-dollaro ciao c'è il cambio dollaro-bitcoin quella è un'altra cosa quindi quando vai a fare trading su bitcoin tu c'hai due effetti che ti che ti che ti vanno ad impattare uno è il trading di per sé e l'altro poi è il cambio quando tu riporti i soldi nella valuta in euro o in dollari se poi tu ti tieni in bitcoin a posto c'è solamente l'effetto del trading se tu invece poi li riporti in valuta euro-dollaro poi c'hai anche l'effetto cambio Lockhead Martin si si è ripresa bene mi elenchi le migliori opportunità di investimento e come imparare a valutarle non ci sono le migliori opportunità di investimento in valore assoluto ci sono le opportunità di investimento più adatte alla tua situazione e al tuo grado di rischio è inutile che io ti dico vieni a fare trading su bitcoin se tu hai un grado di rischio zero il grado di rischio zero ti devo dire la migliore delle obbligazioni quindi non esiste un investimento migliore per tutti esistono gli investimenti più adatti alla tua situazione potresti gentilmente per spiegare perché sei contrario agli stop loss sull'etf ah perché no semplicemente perché l'etf allora tu lo stop loss tu ce l'hai solitamente innanzitutto quando fai trading quando fai investimenti lo usi molto meno lo stop loss e soprattutto tu ce l'hai nel momento in cui vai a fare una strategia di trading o comunque vai a fare ad investire su una singola azione perché sulla singola azione ti può capitare che esce qualche notizia e il titolo va giù sull'etf un etf non ti farà mai il meno 10 in una giornata è difficile perché deve crollare tutto il settore in quella giornata l'etf ti farà il meno 3 il meno 4 in una giornata quindi se tu stai facendo trading e hai le tue strategie di trading allora si lo puoi usare lo stop loss in base a quello che dicono le tue strategie puoi usare anche uno stop loss molto stretto a 0,5% per assurdo se te lo dice la tua strategia ma se tu stai facendo degli investimenti a un anno a due anni uno stop loss sull'etf non ti cambia nulla non non ti fatto questo grande meraviglia anche perché tu lo vidi l'etf se sta scendendo se sta salendo quello che sta facendo quindi c'hai tutto il tempo poi di fermarlo tu in manuale non ti serve avere lo stop loss per forza potete stop loss bitcoin lo troveremo a 12 12 cosa con gli indici americani ai massimi è difficile investire no non è vero che è difficile investire e diciamo trovi meno opportunità di investimento sì ma ci sono delle opportunità di investimento io ho comprato ho fatto degli investimenti di aziende nuove che aggiungo in portafoglio di recente e diciamo le trovi cioè non ne trovi tantissime ma ne trovi tipo più o meno recentemente abbiamo investito su Intel che ha un prezzo accesso assolutamente abbordabile Disney che altro o United Natural Food abbiamo guadagnato il 30% Discovery in questo momento è ancora un prezzo molto buono ce ne sono parecchie Alibaba c'è ancora un prezzo molto buono ma ce ne sono tante per il mio orizzonte temporale il mio portafoglio è sempre 100% azionario tramite pack questi cazzi di tassi anche io se ti può consolare c'è un portafoglio 100% azionario e buonanotte al secchio AMS non la sto seguendo il socio di Warren Buffett ha detto che le attuali quotazioni delle azioni sono folli cosa ne pensi è quello che stavamo dicendo prima che la problematica è che non ci sono alternative in questo momento e le quotazioni sono alte sì però non tutto è alto è alto il medione sì quindi ci può essere un ritracciamento sì però questo non giustifica il fatto di evitare di investire infatti anche lui il socio di Warren Buffett e Charlie Munger sta investendo ma sta investendo su determinati tipi di azioni o sottostanti che anche se il mercato è alto nel suo complesso ci sono le opportunità di investimento Charlie Munger la notizia di qualche giorno fa ha raddoppiato la sua esposizione su Alibaba ragazzi ultimi 5 minuti e chiudiamo quale gestura etf utilizzi da borsa italiana per evitare la doppia tassazione estera grazie etf utilizzare da borsa italiana per evitare la doppia tassazione estera ma mica la tassazione la eviti cambiando gesture no ma la doppia tassazione ce l'hai punto e basta non ti cambia nulla non la cambi con il gestore etf africa no non c'è dicevamo prima io tutti questi paesi africa sud africa brasile e così via a me non mi ispirano più di tanto non ci investo non li seguo nemmeno non ti saprei neanche dire conviene ancora investire nelle fang si ieri ho fatto un investimento di quasi 3.5 del 1500 comprando 1600 share di duyu a 2.5 pensi che il trend di ribassenza per azioni cinese sia finito non lo so se il trend di ribassenza sia finito duyu ha una quotazione palesemente troppo bassa il problema è che stanno in questo momento soffrendo tanto non riesci a tornare non riesci a tornare su però se rientra nell'ambito del tuo portafoglio hai fatto bene ci sarà una nostra azione dei settori di sottopesare america si lo puoi fare e prenderti un po' più di industriale europeo assolutamente si tu riesci adesso nel 2022 cosa prevedi martedì che parla il nuovo power l'altro crollo in arrivo e che ne so ciao domenico io ho una posizione sul mio portafoglio 60 azionario 40 obbligazionario sono indeciso se continuare così anche per il 2022 o se ridurre la parte azionaria sono indeciso e guarda ovviamente io non posso sapere la tua situazione il problema è che la parte obbligazionaria noi già lo sappiamo che scenderà nel 2022 quindi non è assolutamente banale io ti dico molto onestamente in linea generale i clienti che stiamo seguendo adesso li sto passando un po' più verso l'azionario l'azionario è alto tutto quello che ci siamo detti fino adesso quello che vuoi di qua e di là però il problema è che l'obbligazionario lo sappiamo già che scende e quindi ti devi prendere qualche rischio oppure ti pigli l'obbligazionario e te lo porti a scadenza se ti prendi l'obbligazionario e te lo porti a scadenza anche se scende non te ne frega niente e buonanotte al secchio puoi fare così volevo dire venderesti ah venderesti adesso nel 2022 no io non sto vendendo io sto continuando a fare il mio piano tranquillamente il mio piano di accumulo poi dipende dalla tua situazione se per quanto tempo devi investire quel portafoglio che io ho lì sui turo condiviso è un portafoglio con soldi che io a me non devo prelevarli è un portafoglio lì di accumulo di lungo periodo quindi in questo momento non cambio rimango investito sull'azionario magari potresti andare a bilanciare con una parte maggiore di liquidità ti puoi tenere il 10 il 15% di liquidità se vuoi addirittura anche il 20% di liquidità se pensi che i mercati scenderanno etf italiani in che senso etf italiani sull'italia etf sull'italia non lo so onestamente non l'ho mai visti ora che mi ci fai pensare non l'ho mai visti noi abbiamo creato new hit per investire in italia e quello il nostro etf italiano avendo un portafoglio tutto azionario per bilanciare eventuali ribassi quale etf metteresti nel portafoglio e devi metterti una parte obbligazionaria ah no tu vuoi sapere l'etf in azioni che ti bilancia il portafoglio allora l'etf in azioni che ti bilancia il portafoglio non lo so puoi prendere qualche settore difensivo quindi molto industriale allora potresti prendere il financial perché comunque con l'aumento dei tassi il financial sta performando bene e performerà probabilmente bene ti puoi prendere un qualcosa molto industriale molto value perché il rialzo dei tassi fa scendere di più ovviamente le tech più che le quelle industriali quindi queste due settori possono diciamo ridurre un po' il rischio per il portafoglio top 3 azioni da dividendo in questo momento mamma mia che domandura lo sai che non lo so AT&T AT&T e Enel e la terza sto vedendo dal mio dal mio portafoglio quelle azioni che lasciano dividendi la terza non ce l'ho AT&T ed Enel per il momento quanto tempo pensi che i trend a ribasso durerà non ne ho le più pali da idea a proposito di Newit si sapranno i titoli che sono stati comprati ci sarà un video a riguardo assolutamente si te lo anticipo questi sono i titoli che abbiamo comprato aspetta che te li scorro dopo te li vidi con calma tutti questi qua per il momento abbiamo comprato tutti questi lo scopo di Newit ragazzi non è speculazione attenzione quindi non cominciate a fare i commenti ah ma c'hai troppi titoli in portafoglio bisogna fare un portafoglio con 10 titoli di qua di là lo scopo di Newit non è fare speculazione non è fare le performance del 20% all'anno non ce ne frega niente lo scopo di Newit è dare un giusto una giusta ricompensa agli investitori come è normale che sia ed è un progetto nato per dare i soldi alle aziende italiane aziende medio piccole quotate in borsa start up debito alle imprese sostenere l'economia italiana creare posti di lavoro aiutare la ripresa economica andare ad innescare quei cicli virtuosi perché se noi diamo i soldi alle aziende italiane queste aziende italiane sviluppano i progetti creano posti di lavoro ci sono gli stipendi più alti per chi è già al lavoro ci sono nuovi posti di lavoro per i nostri figli tutti diventiamo più ricchi perché c'è più lavoro ci sono stipendi più alti tutti abbiamo più soldi questi soldi li reinvestiamo di nuovo nelle aziende italiane e così il sistema paese migliora e va avanti questo è il senso di new hit tutti quelli che non avevano capito questo senso e rivolgono i soldi indietro glieli diamo vorrei fare due chiacchiere con te dal vivo e sto qua ciao domenico e buon anno esiste un metodo per determinare il livello di prezzo per impostare ordini condizionati di protect in che senso esiste un metodo per determinare ah tu e quello dipende dalla tua strategia di trading ne puoi adottare 100.000 è inutile che te ne dico uno dipende dalla tua strategia di trading se ho Alibaba in portafoglio e viene dell'istata come posso poi fare a venderla no avviene in automatico o te la quotano su un altro mercato e quindi ti spostano oppure te la liquidano ragazzi sto chiudendo devo scappare sono in ritardo un buon metodo di investimento io penso etf pac mensile luca ciao luca cosa ne pensi di paypal paypal a me piace tanto e stavo anche pensando di metterla in portafoglio palantir ti avevo detto a 15 bene ragazzi grazie mille noi ci vediamo prossimamente nei video i video ci sono due video a settimana fatti su youtube da Daniele io che faccio o la live o il video tre settimane più l'intervista all'amministratore delegato ogni tanto ci facciamo anche queste chiacchierate dal vivo per rispondere alle vostre alle vostre domande che ha a dirvi grazie a tutti e niente ci ci vediamo nel gruppo telegram su sotto in giro da qualche parte ti ho scritto ti ho scritto in privato per per contribuire a cercare quel ciclo virtuoso di cui parli grazie vincenzo su quale blog investire per new hit no no su new hit abbiamo fatto la raccolta su we are starting ma adesso è chiusa e la apriremo poi di nuovo l'anno prossimo penso di nuovo verso ottobre dell'anno 2022 cioè l'anno prossimo vuol dire 2022 penso che la prossima raccolta la facciamo ottobre 2022 grazie ragazzi buona serata a tutti ciao ciao